Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Continuo con l'ormai quotidiano bollettino circa le condizioni di salute di Alessandro Meluzzi, psichiatra e amico che come sapete è stato purtroppo colpito nei giorni scorsi da un ischemia che lo ha costretto a un intervento d'urgenza presso l'ospedale di Cesena. La situazione inizialmente sembrava davvero critica e lo è stata, per fortuna ci sono stati degli spiragli di luce e la situazione si è stabilizzata. Ora do questi aggiornamenti quotidiani per rispondere coralmente, diciamo così, ai tantissimi messaggi davvero innumerevoli che mi giungono di persone che su tutti i social Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram mi scrivono per avere notizie su Alessandro Meluzzi, quindi anziché rispondere singolarmente a ciascuno e mi scuserete se non lo faccio, se no dovrei fare solo quello, quindi vogliate perdonarmi se non rispondo singolarmente, fornisco queste risposte corali per dare indicazioni sulle condizioni di salute di Alessandro Meluzzi. Ecco, la situazione risulta ad oggi stabile, c'è stato un miglioramento come si diceva, bisogna attendere, ci vuole un po' di pazienza per avere nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Alessandro, tuttavia ribadiamo che c'è stato un miglioramento e speriamo vivamente, come non ci stancheremo mai di dire, che Alessandro si riprenda al prima possibile e possa tornare in prima linea insieme a noi per supportare la battaglia contro l'ordine dominante in cerca di prospettive di migliori libertà. Ecco, quindi questo è quello che volevo dirvi, sostanzialmente la situazione è stabile e migliorata rispetto all'inizio, attendiamo che vi siano novità, ve le comunicherò tempestivamente in video ulteriori sempre su questo canale. Se ritenete utile il lavoro che facciamo potete anche supportarci, nella descrizione del video trovate il modo in cui supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro.